Il nostro telegiornale che apriamo parlando di tasse via libera dall'aggiunta comunale ad una serie di agevolazioni a sgravi fiscali ma ci spiega tutto l'assessore al bilancio Santipano. La giunta comunale ha approvato una serie di provvedimenti in materia di tributi e tasse locali. Per quanto riguarda la nuova IUC, Imposta Unica Comunale, l'amministrazione comunale ha deciso di contenere il carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese. Per la Tasi la nuova imposta sui servizi è di fatto una reintroduzione, seppure sotto diversa denominazione della vecchia IMU. A differenza della stragrande maggioranza dei comuni di tutta Italia, l'amministrazione ha deciso e ritenuto di non dover fare ricorso alla tanto temuta maggiorazione dello 0,8 per mille. Comincerei a fare l'esempio della Tasi che di fatto rappresenta la vera novità del panorama tributario del 2014. Anzitutto il Comune non ha ritenuto di fare ricorso alla maggiorazione tanto temuta dello 0,8 per mille e soprattutto ha fissato la liquida per le prime abitazioni al 2,3 per mille. Per comprendere il peso, la portata di questo provvedimento basta pensare che i nostri cugini catanesi pagano la liquida massima del 2,5 per mille cui si aggiunge poi la maggiorazione dello 0,8 per mille. Ma il segnale è stato importante anche verso le attività produttive come riconoscimento dell'importante ruolo che queste svolgono nel tessuto economico della città. Non solo le attività produttive che attualmente pagano l'IMU al 10,6 per mille non saranno toccate dalla Tasi ma addirittura si va a ritoccare quella che è stata la liquida IMU in vigore del 10,6 per mille di uno 0,7 per mille. Cioè in pratica le attività produttive non saranno toccate dalla Tasi e pagheranno rispetto allo scorso anno un'imposta complessiva del 9 per mille. Andiamo avanti, il movimento Tsipras è presente a Siracusa, presente il proprio candidato, si tratta di Alfio Foti. Ieri sera è intervenuta ad una kermessa all'anticomercato di Ortigia insieme con la Borsellino. Il medico le ha consigliato di tenere a bada la propria salute. Ecco perché la Borsellino non si è ricandidata alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Vi è libere quindi alla candidatura di Alfio Foti che ieri sera ha partecipato alla kermesse del movimento Tsipras a Siracusa proprio in compagnia della Borsellino. La Sicilia deve portare intanto le sue potenzialità, non mi piace l'idea di una Sicilia col cappello in mano che va a chiedere qualcosa, ma la Sicilia che si propone come potenzialità per l'Europa intera sia per la sua posizione geografica, sia per la sua storia, la sua cultura, le sue potenzialità di sviluppo perché la Sicilia è una terra che deve ancora svilupparsi. Quindi credo che questo sia veramente un'occasione importante. Io ci ho provato nei cinque anni di legislatura e devo dire che sono riuscita a portare argomenti che fino allora non erano stati mai trattati e questo sicuramente è un lavoro da continuare. La presenza di Alfio Foti al Parlamento europeo potrebbe avere proprio questo significato di continuità su tematiche e argomenti importanti. Per non andare lontano, anche con le notizie, altri 295 emigrati sono sbarcati proprio qua vicino ad Augusto. La cosa grave, veramente grave e insopportabile è che nel 90, parliamo 24 anni fa, l'ONU ha approvato una risoluzione, una convenzione per i diritti dei lavoratori emigranti e questa convenzione non è stata recepita da nessuno. È urgente una politica di accoglienza seria e responsabile da parte dell'Europa superando impostazioni tipo Frontex che non portano alcun risultato e poi sviluppare, come dicevo prima, una politica di cooperazione orizzontale vera, di sviluppo qualitativo vero di tutta la regione del Mediterraneo. L'Europa non è protesa del Mediterraneo, l'Europa è il Mediterraneo. La situazione della 6-8 sembrerebbe diventare ogni giorno più ingarbugliata, infatti questo si legge in un comunicato delle organizzazioni sindacali, Filtem, Femca, Wiltec e la RSU. Gli incontri che si sono svolti negli ultimi giorni sia in tribunale che in prefettura, tra sindaci, curatela fallimentare e il prefetto non hanno sortito novità sull'attuale situazione alla luce di tutto questo. I sindacati ribadiscono la preoccupazione per i livelli occupazionali e la gestione del servizio. Inoltre, si legge in una nota, le uniche novità sarebbero rappresentate dalle azioni unilaterali messe in campo dalla curatela fallimentare, azioni che secondo i sindacati tenderebbero a modificare l'assetto organizzativo e la retribuzione dei lavoratori scaricando su questi ultimi tutte le difficoltà della vicenda. Presentata questa mattina la redazione della seconda commissione sullo stato e gli impianti sportivi di proprietà del comune. Tutto non sembra andare per il meglio, lo sentiamo dalla voce della Presidente della Commissione Castelluccio. Qual è lo stato degli impianti sportivi comunali a Siracusa? Tenta di rispondere alla questione la seconda commissione consigliare che ha ottenuto i sopralluoghi. In quasi tutte le strutture sono state evidenziate mancanze e inadeguatezze degli impianti, soprattutto dal punto di vista strutturale, che in alcuni casi rendono difficoltoso ottenere ad esempio le autorizzazioni per il regolare accesso del pubblico. Una foto della situazione la scatta la Presidente della Commissione, Carmen Castelluccio. Stamattina la seconda commissione consigliare che si occupa anche delle politiche dello sport di cui sono Presidente, presenterà il lavoro che ha fatto dal mese di settembre a oggi. Abbiamo effettuato in questi mesi dei sopralluoghi in tutte le strutture sportive di proprietà del comune e abbiamo riscontrato aspetti positivi ma molte criticità. Ovviamente sono criticità e problemi atavici attribuibili a amministrazioni precedenti che non hanno investito sullo sport e noi abbiamo fatto una fotografia di tutto ciò che abbiamo visto, i punti di debolezza e stamattina vogliamo consegnare la relazione all'assessore allo sport Maria Grazia Cavarra che ovviamente è a conoscenza, non è che le diciamo nulla di nuovo. Le tre foto, le tre istantanee peggiori che possono far capire lo stato del... Allora intanto le strutture e i campi di calcio di proprietà comunale sono in uno stato di quasi totale abbandono. In questi anni non sono state investite risorse tant'è che in queste strutture si disputano partite però il pubblico non può accedere perché ci sono problemi strutturali e poi il grosso problema della cittadella dello sport dove riteniamo che l'amministrazione debba fare una scelta chiara, definitiva. Mi pare che in questo senso l'amministrazione ha già delle idee da portare avanti, ci confronteremo ma una struttura come quella della cittadella dello sport, noi lanciamo questo grido d'allarme, non può lasciarsi chiusa impedire la fruizione a tutti i cittadini che vogliono praticare lo sport. È una struttura storica che vogliamo salvaguardare e in questo senso vogliamo trasmettere all'amministrazione comunale le nostre idee, le nostre proposte in un rapporto di collaborazione. Da oggi 30 dipendenti della Clinica Villa Rizzo non sanno più quale sarà il loro futuro, ve ne abbiamo dato conto nei giorni scorsi, c'è un ricorso che blocca al momento il passaggio di proprietà, questa mattina erano in Piazza Archimede per parlare col perfetto Gradona. Ultimo giorno per i dipendenti della Clinica Villa Rizzo per conoscere il loro futuro lavorativo, una scadenza imposta dalla vicenda del passaggio di consegne e della gestione, bloccato da un ricorso famiglia allo stremo e senza stipendi, ultima speranza, l'incontro con il prefetto Gradona. Ci siamo visti due giorni fa, era una corsa contro il tempo, un cambio di gestione, confusione, non sapete qual è il vostro futuro, ultimo tentativo è quello di oggi, parlare col prefetto e chiedere che intervenga in vostro favore. Sì, praticamente oggi siamo al capolinea, quindi più tardi abbiamo l'appuntamento col prefetto che gentlemente ci ha concesso, noi ci appelliamo, appelliamo, abbiamo fiducia nelle istituzioni, che il prefetto oggi ci dia una risposta valida, che il prefetto valuti attentamente la nostra situazione, la situazione della sanità privata dei 45 posti letto che la cittadinanza perde sul territorio, perché torno a ribadire che la nostra paura, oltre alla perdita dei posti di lavoro, la nostra paura di chi è monoreddito come me, non posso più avere nessuna cosa di dire che spiegazioni dare ai figli, cioè io mi posso mettere ad accattonare da domani. Hai provato in questi giorni a spiegare in famiglia cosa sta succedendo? Sì, io ho spiegato in famiglia che cosa sta succedendo, ma lei sa bene che non viviamo nessuno oggi come giorno nel lusso, ma che i ragazzi, anche se ragazzi grandi, hanno le loro necessità. Cosa spera che vi dicano sopra? Una volta scesi sotto cosa vorrebbe che le dica? Io spero che il prefetto ci dia delle risposte in maniera da poter sapere che cosa ci succede fra due ore. Noi vogliamo delle risposte perché dobbiamo sapere di chi è la responsabilità di quello che sta succedendo. È stata aperta un'inchiesta giudiziaria per la morte di una bambina di appena tre giorni all'ospedale Umberto I di Siracusa, intanto eseguita l'autopsia. Occorre l'esame istologico per stabilire le cause della morte di una neonata avvenuta la scorsa settimana al reparto di ossetricia dell'ospedale Umberto I di Siracusa, all'obitorio dello stesso nosocomio, è stata eseguita l'autopsia sul corpicino della piccola, eseguito dai medici legali Francesco Coco e Toto Corsello, su incarico del sostituto procuratore Claudia Dalitto, che sta coordinando le indagini sulla morte della neonata. Hanno assistito all'esame autoptico i consulenti di parte, i medici legali Corrado Croo, Giuseppe Bulle e Maria Thea Teodoro. 12 le persone iscritte nel registro degli indagati e la procura di Siracusa, alle quali viene contestato il reato di omicidio colposo. Si tratta dei medici del reparto di ossetricia e ginecologia dell'Umberto I, della pediatra che ha seguito la puerpera prima del suo ricovero in ospedale, del ginecologo e del consultore familiare a cui nel recente passato si sono recati i genitori della sfortunata neonata. La puerpera si trovava ricoverata all'ospedale Siracusa a causa della rottura della membrana. Pur essendo alla trentesima settimana di gestazione, la donna è entrata in travaglio ed è stato necessario eseguire il parto prematuramente, visto che era entrata appena all'ottavo mese. Tutto sembrava essere andato per il giusto verso e la bimba, pur in condizioni delicate a causa della prematura nascita, era stata collocata in un'incubatrice per essere osservata attentamente. Sabato scorso, tre giorni dopo essere venuta alla luce, la neonata è deceduta. I genitori in preda alla disperazione hanno subito affidato ad un legale il caso, sostenendo che quella disgrazia potesse essere evitata e che vi fossero delle responsabilità da parte dei medici che hanno avuto in cura la puerpera e la bimba. Ci fermiamo, c'è la pubblicità per qualche minuto, ma vi aspettiamo tra poco per la seconda parte del telegiornale. Entra nel mondo Gemar. Una vasta gamma di prodotti di marca ai prezzi più bassi della città. Salumi, carni, frutta, verdura, rigorosamente certificati e sempre freschi. Inoltre, abbigliamento, giocattoli, elettrodomestici, telefonia e tanto altro. Gemar è un mondo tutto da scoprire. Cerca il punto vendita più vicino a te. Se hai tante idee per la testa, non farai un buco nell'acqua. Tuffati nella creatività e accendi la voglia di Fai Da Te. Offerte valide dall'8 maggio al 1 giugno. Idropittura bianca, traspirante, 14 litri, euro 24,90. Gazebo in metallo, 159 euro. Barbecue a carbonella, euro 44,90. Tosa erba elettrico Black & Decker, euro 89,90. Trapano avvitatore a batteria, euro 39,90. Ventilatore da soffitto, 5 pale, euro 44,90. Brico Center Melilli, Contrada Spalla, città giardino presso il parco commerciale Belvedere. Una residenza sanitaria assistenziale, nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente. Una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante. Assistenza sanitaria diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria medica e infermieristica, attività riabilitative, ricreative e culturali. Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Due strutture specializzate per il tuo recupero. RSA Scala Greca, via Scala Greca 406-A, Siracusa. RSA Anni d'Oro, Contrada Spalla, città giardino, Melilli. Info 0931 75 65 06 o 76 17 38. L'assistenza che cercavi. In esclusiva nello store Scavolini Siracusa, la vostra casa tutta Scavolini inventirate a interessi zero. Scavolini Store Siracusa, in viale Scala Greca 381. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, a stile. E guarda che cromature! Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma vai, io parlavo della nuova Yaris! Oh, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché è una telecamera che parla? Non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris. Geniale come sempre. Trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Tarja, Siracusa. Ben trovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Indagine suppletiva da parte della Procura di Siracusa nell'ambito della vicenda relativa alla costruzione del centro commerciale Indiale Pipoli. La nuova udienza preliminare fissata per il prossimo 12 giugno. Il legupo del Tribunale Siracusa, Alessandra Gigli, davanti al quale si celebra il procedimento penale per la vicenda Opel, ha concesso un termine a difesa e fissato una nuova udienza preliminare per il 12 giugno prossimo. La decisione scaturisce dal fatto che la parte civile costituita ha depositato all'udienza di ieri una memoria. Anche i pubblici ministeri, Andrea Palmieri e Tommaso Pagano, subentrati a Bisogni e Boschetto, entrambi trasferiti, hanno prodotto la documentazione relativa ad indagini suppletive e ciò ha indotto il giudice a prendere tempo per verificare l'intero carteggio. Nell'udienza di ieri, l'avvocato Ezechiel Reale, difensore del principale imputato, l'ingegnere Natale Borgione, dirigente dell'ufficio urbanistica del comune di Siracusa, e l'avvocato Francesco Favi, che difende altri due tecnici del comune, l'ingegnere Vincenzo Trigilia e il geometra Raffaele Gallo, hanno preannunciato di volere ricorrere per i loro assistiti al rito abbreviato. Sempre nella prossima udienza sarà sottoposta l'interrogatore dell'ingegnere Borgione, che deve rispondere insieme agli altri imputati di tentata concussione e danni ai titolari dell'impresa, che chiedeva il rilascio di autorizzazione alla costruzione del centro commerciale in Viale Pipoli, attualmente in fase di completamento. Come si ricorderà, il procedimento penale scaturisce dalla denuncia presentata il 30 settembre del 2009 presso gli uffici della procura di Siracusa dall'amministratore unico della Openland SRL. In quella denuncia si faceva riferimento al fatto che, dopo aver permesso che la società, il 20 aprile 2009, aveva avanzato al comune di Siracusa la richiesta di rilascio della concessione edilizia con riferimento al progetto denominato centro commerciale Fiera del Sud, che prevedeva la demolizione e la ricostruzione del complesso commerciale di Viale Pipoli, e la dirigente Borgione avrebbe avanzato ancora priva della presentazione del progetto, richiesta di indicare a lui stesso un professionista fiduciario per la progettazione e la predisposizione dei relativi elaborati. Delle ossa rinvenute, resti umani rinvenuti lo scorso sabato all'Arenella, bene c'è chi aveva parlato addirittura di lupara bianca, in realtà quei resti risalgono al tardo medioevo, e questo il risultato dei rilievi operati dagli esperti archeologi della sovrintendenza siracusana. Nessun caso di lupara bianca, le osse umane rinvenute all'Arenella sabato scorso sarebbero da catalogare come reperti storici. A queste conclusioni è giunta la sezione della sovrintendenza e beni culturali di Siracusa che ha effettuato le ricerche e l'analisi dei resti umani rinvenuti in traversa Aranella da un passante, come si ricorderà nei pressi della scogliera, a sita immediatamente dopo uno stabilimento balneare. Gli agenti della squadra mobile e la polizia scientifica, intervenuti sul posto subito dopo la segnalazione, hanno effettivamente riscontrato la presenza delle ossa e l'intervento del medico legale, il dottor Francesco Cocone, confermava la natura umana. Sul luogo del ritrovamento sono poi riaffiorate altre ossa, così da consigliare agli investigatori di recintare l'intera zona vigilata in attesa del completo recupero dei resti. Dai rilievi tecnico-scientifici eseguiti in questi giorni dagli esperti archeologi, infatti è stato possibile stabilire che i resti umani siano da ricondurre ad un seppellimento avvenuto nel Medioevo. Sarebbero quindi ossa appartenute ad una persona vissuta quasi mille anni fa e alla quale è stata data sepoltura in quella parte periferica della città. Il mare e gli agenti atmosferici hanno fatto riaffiorare, con il passare dei secoli, i resti umani, privi del corredo funerario, perché molto probabilmente si è disperso. Rapinatori in azione alla villa del Tellaro portano via la cassaforte e dopo aver minacciato i due custodi il risultato è un bottino di 8.000 euro. Anche un sito archeologico importante può essere fonte di bottino per i malintenzionati. È accaduto alla villa del Tellaro di Noto, presa di mira da due banditi che si sono impossessati della cassaforte con gli introiti derivanti dal pagamento del ticket da parte di turisti e visitatori. Ad eseguire le indagini sono stati i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Noto, i quali sono intervenuti su segnalazione dei due custodi che si sono visti minacciare con un fucile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due individui con il volto travisato ed armati di un fucile da caccia hanno fatto irruzione nella guardiola dell'ingresso della villa, hanno aggredito i due custodi impadronendosi della cassaforte e straendola dalla parete. Con il bottino di 8.000 euro si sono allontanati rubando l'autovettura di uno dei custodi che poi hanno abbandonato subito dopo. Sono in corso le indagini, non è una novità assoluta quella di scegliere come campo d'azione siti di interesse archeologico. In passato rapinatori hanno agito a Noto Antica, prendendo di mire i turisti che si ricavano in visita i resti dell'antica città barocca. Un reperto storico, una pietra calcarea intersiata a dimensioni 40x70 cm, 20 cm di spessore è stato scoperto all'ispettore capo del nucleo turistico della Polizia Municipale Corrado Caruso in contrada arenella del rivenimento. È stato subito informato il nucleo di tutela del patrimonio dei carabinieri e la sovrintendenza. Sesta edizione del concorso Un casco vale una vita, promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri, dall'Istituto d'Arte Gaggini, dall'Isaberg e dal Confcommercio. Qual è lo scopo della manifestazione? Quella di sviluppare tra gli studenti e i giovani i concetti di legalità e sicurezza, soprattutto sulla strada. Un casco per la vita torna alla manifestazione che vede insieme a imprese e forze dell'ordine studenti per sottolineare la necessità di una sinergia per instillare il virus dei buoni comportamenti sociali e civili, soprattutto a salvaguardia delle nuove generazioni e della loro sicurezza. Via Minerva, fatto da cornice alla Kermes. Quella della condivisione quasi del gioco, dell'arte, una commissione che in qualche modo diventa anche un trucco per attrarre i ragazzi su argomenti molto importanti. Sì, ovviamente per coinvolgere i ragazzi ci vuole sempre un escamotage. Io mi ricordo ai tempi miei non era facile poi essere coinvolti in iniziativa un po' più serie rispetto a quelle che sono i normali interessi di un ragazzino. Noi, vi dico subito, come già è stato detto, come società ci crediamo veramente che investire sui ragazzi è l'unica speranza che veramente qualcosa cambi nel panorama del rispetto dei dettami della sicurezza in generale. Noi come società facciamo molto al nostro interno, ovviamente non abbiamo a che fare con ragazzi, anche se spesso, devo dire, i comportamenti sono abbastanza simili. Ecco, si cerca sempre di aggirare la norma, di fare furbi, di trovare scorciatoie, perché diciamo analogamente a quanto avviene con i ragazzi che non indossano il casco, perché magari hanno il gel sui capelli e quindi col casco si spettinerebbero. Da noi in azienda, voglio dire, il rispetto della sicurezza spesso è un fastidio, chiamiamolo così. Noi ci crediamo e cerchiamo di andare oltre a quello che è il nostro perimetro interno, cercando di diffondere quella che è l'esperienza che ci siamo fatti al nostro interno, dopo anni veramente di perseguire, che abbiamo spesso perseguire appunto gli obiettivi di sicurezza, ci crediamo veramente e siamo convinti di poter dare un nostro contributo anche all'esterno. Hanno deciso di sposarsi in maniera davvero inconsueta a Siracusa, nei fondali dell'area marina protetta del Plemmirio. L'area prescelta si trova proprio nella zona B, dove sono possibili le immersioni individuali con un'autorizzazione del consorzio. Si trova nella zona di Capomeli, tratto Costa Bianca, che gli sposi e poi gli altri sub invitati hanno individuato una radura a poca distanza dal sito conosciuto come la Madonnina. I consiglieri comunali di minoranza, siamo a Lentini, richiedono la convocazione straordinaria del Consiglio per sollecitare il Sindaco a riappropriarsi della rete idrica comunale. Dopo l'approvazione da parte della Regione Sicilia del disegno delle leggi che consente anche a quei comuni che consegnarono i loro impianti idrici alla 6-8 di riappropriarsene, Solarino, Buccheri, Noto e Floridia hanno già provveduto, mentre a Lentini l'amministrazione comunale segna il passo in un silenzio assordante. Per questo l'opposizione consigliare, composta da Mazzilli, Battiato, Bosco, Pollicino e Vacanti, da sempre a favore della gestione pubblica degli impianti idrici comunali, ha deciso di inoltrare l'ennesima richiesta di convocazione urgente del Consiglio comunale per riaffrontare questa problematica. Non ci sono più attenuanti, sostengono i consiglieri di opposizione Mazzilli, Battiato, Bosco, Pollicino e Vacanti. Non è più possibile tergiversare e consentire che ai lentinesi vengano ancora recapitate bollette idriche fantasme salatissime, come è accaduto con la gestione 6-8 per la mancata lettura dei contatori idrici, oppure passare il testimone ad altre società private che dalla gestione idrica devono trarne necessariamente un profitto economico che peserà sempre e comunque sulle tasche dei lentinesi. Sulla questione acqua pubblica interviene anche il CLAP, Comitato Lentinesi e Acqua Pubblica, che esprime la sua enorme preoccupazione per il silenzio che sembra essere caduto su questa problematica. Ieri lunedì sostiene il CLAP durante un incontro con la curatela fallimentare. I comuni di Floridia, Buccheri, Noto e Solarino, hanno richiesto gli impianti e lentini. Quali sono le intenzioni di questa amministrazione? Adesso il calcio, il Siracusa attraverso il proprio direttore generale, Alfredo Finocchiaro, sta cercando di ottenere il campo neutro per la super sfida di sabato contro il Mister Bianco. La società azzurra infatti si è rivolta alla Lega adducendo come motivazioni l'inagibilità del campo di calcio del Mister Bianco e quindi il probabile divieto per i tifosi siracusani di seguire la trasferta per motivi di ordine pubblico. La società etnea però sembra imperterrita voler discutere la finale regionale dei play-off sul proprio rettangolo di gioco, così come previsto dal calendario. La cantante siracusana Federica Buda, tra le protagoniste vocali della trasmissione dei Voice of Italy, torna nella puntata di questa sera alle 21.10 su Rai 2, quindi fans siracusani, chi voglia dare una mano a Federica quindi può farlo in maniera molto semplice durante la serata live. Basta comporre dal telefono fisso il numero 894-001 o inviare un sms al 475. Quindi chi vuole dare una mano all'artista siracusana può farlo attraverso questi numeri. Per noi è tutto. Qui il Te Giornale si conclude e vi auguriamo un buon proseguimento di programma. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.